In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Carissimi bambini, inizio adesso il secondo incontro di Catechismo sulla dottrina cristiana. Iniziamo con una preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso ci rivolgiamo alla Madonna, a Maria, alla nostra Mamma Celeste, per tutti gli ammalati, perché guariscano, per i nostri cari, che tanto amiamo, e per il Santo Padre Benedetto, il Papa che sempre prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora un gloria al Padre per ringraziare Gesù di tutti i doni che ci dà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, dei secoli. Amen. Iniziamo, carissimi bambini, questo incontro. Se vi ricordate, la volta scorsa il titolo dell'incontro era Dio, Creatore e Signore. Ed era il primo incontro che facevamo. Vedete, questo è un quaderno. Spero che anche voi abbiate tenuto il quaderno. E questa era la domanda che si doveva imparare a memoria. Chi è Dio? E la risposta. Dio è l'essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra. Ecco, spero veramente che l'abbiate imparata a memoria. Non è difficile. E che abbiate fatto anche il disegno corrispondente che dovrebbe illustrare Dio mentre crea tutte le creature. Io non vi faccio vedere il mio disegno perché non è bello, ma il giorno in cui ci incontreremo, non so dove, non so quando, voi mi porterete i vostri quaderni. E sarà bellissimo vedere i vostri disegni. Intanto fatevi consigliare dai vostri genitori, dai vostri fratelli più grandi, dai vostri nonni, come tenere bene il quaderno di catechismo. Vedrete che anche loro hanno delle buone idee. L'incontro invece di oggi è porta come titolo, ecco vedete il numero due, Dio ha creato l'uomo. Questa è la figura che guarderemo in questo incontro. Cioè Dio, dopo aver creato tutte le altre creature, gli animali, le piante, i minerali, il mondo intero, dopo aver creato anche gli angeli, alla fine ha creato l'uomo. La Bibbia ci parla di sei tempi, sei giorni in cui Dio ha creato tutto il mondo. Il sesto giorno, per ultimo, ha creato l'uomo. Maschio e femmina Adamo ed Eva, una coppia sola, da quella coppia ha avuto origine tutta l'umanità. Anche noi siamo discesi da loro. Se andiamo indietro nelle generazioni, arriveremo a questa unica coppia. Come è stato creato Adamo? Adamo è stato creato in questo modo. Dio ha preso del fango, lo ha plasmato, gli ha dato forma e poi ha soffiato il suo alito di vita per dargli la vita. Quindi l'uomo è fatto, bambini, di due principi. Uno materiale, il corpo. Il corpo che noi vediamo, che noi tocchiamo. E uno spirituale, che non si vede. Il soffio di Dio, cioè l'anima. L'anima non si vede, ma c'è. Solo l'uomo ha l'anima. Solo l'uomo può pregare. Può piangere, può ridere, può piangere, può piangere, può ridere. L'anima lo rende il migliore, il superiore a tutte le altre creature. È la creatura prediletta. La donna, come fu creata la donna? Dice la Bibbia che Dio prese una costola dall'uomo mentre era addormentato e da quella creò la donna. È un modo di dire per significare che l'uomo e la donna, la prima coppia, erano talmente uniti e vivevano talmente in armonia che si può dire che fossero una coppia perfetta. L'uomo e la donna sono formati di anima e di corpo. L'anima è immortale. Essi vivevano nel paradiso terrestre. Dio li aveva posti nel paradiso terrestre. Un ambiente meraviglioso, straordinario in cui a loro non mancava nulla. Guardate quest'altra illustrazione. Dovevano semplicemente raccogliere i frutti degli alberi per vivere e vivevano sotto lo sguardo continuo di Dio. Questo raggio di luce è lo sguardo di Dio. Essi parlavano con Dio, pregavano Dio. Erano puri, completamente puri. I loro pensieri erano casti, puri, limpidi. Vivevano nella serenità e nella gioia. Questo era il paradiso terrestre. L'uomo è la creatura più amata da Dio. Pensate che meraviglia, carissimi bambini. Noi dovremmo sempre ringraziare Gesù per averci creati. Noi abbiamo ricevuto dai genitori il corpo, ma l'anima l'abbiamo ricevuta da Dio direttamente. Pertanto chi mi ha creato? Chi ci ha creato? La domanda di questa settimana. Risposta. Ci ha creato Dio. Perché è vero che il corpo ci è stato dato dai genitori, ma i genitori, chi li ha creati? Se andiamo indietro nel tempo, raggiungiamo i primi uomini, Adamo ed Eva, creati direttamente da Dio. Quindi dobbiamo imparare, carissimi bambini, ad essere grati a Dio del dono della vita, a ringraziarlo. Dovremmo imparare proprio a iniziare la giornata con una preghiera. So che è tanto difficile. Molti bambini non riescono a farlo, ma i più bravi sì. I più bravi si ricordano di Dio nel primo istante della giornata. Appena sono svegli, subito ringraziano Dio. Al mattino appena ti svegli, ringrazia Dio che ha creato te, tuo papà e tua mamma. E vi voglio insegnare la preghiera del Tia d'Oro, che è una preghiera proprio adatta per il mattino. Il Tia d'Oro del mattino. Scusate, adesso la trovo. Eccolo qua. Cioè dopo aver fatto il segno di croce, recitate questa preghiera. Potete fare il fermo immagine qui e poi ricopiarla sul quaderno. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Bambini, recitatela tutti i giorni questa settimana e imparate a pregare appena svegli. Perché non basta lavarsi la faccia al mattino. Bisogna anche pregare Dio. E se volete c'è un'altra rubrica sempre su questo profilo Facebook sulla storia sacra che inizia proprio questa settimana. Sono pochi minuti in cui racconterò puntata per puntata tutta la storia sacra contenuta nella Bibbia. Sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci.